In compagnia della dottoressa Espanoli e della titolare dell'Asilo Senile Argento Vivo, Carmen Di Cristofaro, il suo ultimo libro ha un titolo, direi, emblematico, uscito praticamente nell'autunno scorso, La vita non finisce con la diagnosi. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di un'idea molto importante. Spesso quando le persone convivono con la demenza, noi pensiamo che siano subito finite. In realtà i nostri amici, ovvero persone che convivono con la demenza, che vivono negli Stati Uniti, hanno cominciato a lanciare proprio al mondo questo grido, ma anche questa forza di un concetto importantissimo. La vita non finirà mai con la diagnosi. E questo è importante sia per chi convive con la demenza, ma anche per tutte le persone che si trovano a vivere insieme con una malattia. L'idea poi diventa, nel nostro linguaggio noi spesso diciamo sono malato di Alzheimer e quindi la malattia diventa parte dell'identità. La verità è che noi siamo noi e la malattia è la malattia e la malattia non potrà mai essere una identificazione con la persona. Ed ecco che sempre le persone che convivono con la demenza d'oltreoceano ci ricordano che loro non vogliono essere chiamati dementi, non vogliono essere chiamati malati di Alzheimer, ma semplicemente persone che convivono con la malattia. E che lottano con la malattia. Mi ha colpito uno stralcio del suo libro nel quale lei ha detto la malattia non può essere ladra di memoria. La malattia, l'Alzheimer è in realtà probabilmente un ladro di memoria perché questo è sicuro che piano piano porta via alle persone la possibilità di ricordare. Però dobbiamo ricordarci due cose importanti. La pelle e il cuore non si ammaleranno mai di Alzheimer. E quindi quando siamo accanto a queste persone, a noi la scelta se stare a guardare solo ciò che non sono più, ciò che dimenticano, oppure se vogliamo percorrere questi due grandi canali di incontro con loro, che sono il cuore, perché le persone che convivono con la demenza provano esattamente come noi emozioni, e poi una relazione fatta sicuramente molto di più di contatto fisico. Quindi forte messaggio positivo di incoraggiamento. Assolutamente sì. A parlare in modo negativo della demenza, noi non faremo nient'altro che aumentare lo stigma sociale che c'è attorno a questa malattia. Noi dobbiamo riuscire a raccontare alle famiglie e a raccontare alle persone che convivono con la demenza che è vero che la demenza ha una faccia sicuramente triste, ma peraltro come tutte le malattie, ma che c'è un'altra parte che è fatta di tenerezza, che è fatta di emozioni, che è fatta del diritto di ancora esistere ed essere. Grazie. 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 Grazie.